La provincia è purtroppo impossibilitata a fare qualsiasi azione. L'unica cosa che noi possiamo fare per proteggere la cittadinanza è quella di chiudere l'arteria e ovviamente con tutte le conseguenze e disagi che ne derivano. La regione ha già fatto quello che poteva fare, infatti il tratto di costa dove noi per ora abbiamo questo problema è già stato inserito nel Paicoste, si tratta l'unità fisografica numero 19 che va da Cefalufina a Capodorlando, interessata da questo tipo di criticità e come Paicoste già l'intera zona, quindi l'intero tratto di lungomare è stato inserito sia a pericolosità molto elevate sia anche a rischio molto elevato. Quindi come regione già un passo è stato fatto. Sul discorso del reperimento fondi allora è una cosa un pochettino più delicata, noi sicuramente andiamo a inserire nel famoso programma POFERS 2014-2020, però ricordiamoci che non c'è solo il territorio di Santa Gremilitello che ha queste criticità ma c'è tutta un'intera regione, quindi bisogna capire anche quali sono in questo caso le vere priorità.